Mi sta in base, inizia bene la sua avventura, venire a vincere a Castello Vedrano, una partita che le dà coraggio e anche dà una svolta, diciamo, momentaneamente a questa situazione del Mazzara che sicuramente se fosse stata più tranquilla avrebbe potuto dare più soddisfazione alla squadra canarina. Ma intanto c'è da fare i complimenti ai ragazzi che hanno disputato una grande partita, contropenso una delle squadre più in forma attualmente del campionato. Noi siamo venuti qui, abbiamo fatto la nostra partita, gli abbiamo dato il 100% e il risultato ci ha premiato. Ma guardate un po' strano, il Mazzara che perde in casa col Fogliotore viene a vincere a Castello Vedrano con due golli dell'Ex. Ma quello che è il passato io non ti posso rispondere, io parlo del presente, oggi ho iniziato io, ho detto i ragazzi che dovevamo fare una grande prova di responsabilità e di carattere e la squadra ha fatto tutto quello che avevamo provato in settimana e che gli avevo chiesto. Faccio i complimenti anche alla Fogliotore, che è il mio amico Cavataio, che è una grande squadra e gli auguro di ovviamente salvarsi e fare del loro meglio.